ciao amici benvenuti su questo nuovo canale chiamato app dave con questo breve video che farà da trailer vi informo che qui parleremo di applicazioni per smartphone tablet e pc come si può tranquillamente desumere dal nome del canale siccome sono un appassionato di tecnologia in generale e di app in particolare mi sono detto perché non parlarne aiutando la gente a districarsi nella miriade di app presenti sui vari store qui tratteremo qualunque genere spaziando dal puro intrattenimento a materiale adatto allo studio eccetera considerando che esistono più di 3 milioni di app di carne al fuoco ce ne sarà davvero parecchia per cui se vi ho incuriosito vi chiedo di entrare a far parte della mia community e di seguirmi ci aspetta tantissimo materiale interessante da visionare ciao a presto